Buongiorno, sono le 6.20 e prepariamo la merenda del mattino per la scuola per Tommaso e Caterina. Stamattina ancora con gli occhi gonfi di sonno, non so perché mi sono svegliata prestissimo e la faccia è rimasta così, nonostante abbia fatto la doccia, la schinchiera e mi sia truccata. Vabbè, passerà durante il giorno. Comunque, nella parte inferiore dei contenitori andiamo a mettere dei succhi di frutta frullata. Dovrebbe essere frutta al 100%, per Caterina mela e banana, per Tommaso mela, ananas e cocco, una cosa del genere. A Caterina mettiamo queste due briochine all'albicocca che ha scelto lei al supermercato. L'odore è davvero buono, anche se a me non piace l'albicocca, però vediamo se le piaceranno, le ha scelte lei, speriamo bene. Per Tommaso invece delle mini fette biscottate ricoperte di cioccolato fondente, gliene le do tre. Poi arriva una cosa che di solito io non demonizzo, voi un pochino di più, però vabbè. Ieri è stato il compleanno di un bambino a scuola che tenia tornata con un sacchetto pieno di caramelle regalate. Ovviamente i bambini le hanno volute anche per la merenda a scuola, non ci vedo niente di male, quindi un sacchettino minuscolo a testa. Chiudiamo i contenitori e noi siamo pronti.